...cambiare se stessi, come nel caso di Abramo... Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il rischio dell'accoglienza. E oggi anche con l'olfantaggio c'è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico, no? Che c'è oggi, che si vede che la gente non vuole avere figli, o almeno uno e niente di più, no? E tante, tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono. O hanno uno e niente di più. Ma hanno due cani, due gatti. E sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità. Grazie. 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 Grazie.